Buonasera a tutti da Matteo Mancini, riprendiamo la nostra carrellata dedicata ai maestri della letteratura fantastica o agli emergenti del fantastico italiano. Quest'oggi ci interessiamo a un autore che potremmo collocarlo a metà strada tra le due categorie che vi ho appena menzionato, in quanto non è ufficialmente riconosciuto a livello internazionale come un maestro della letteratura fantastica ma ha tutte le qualità, le credenziali per poterlo essere ed è invece sicuramente un emergente del fantastico all'italiana. Parliamo oggi di Cristiano De Micheli, scrittore genovese classe 1975, salito diciamo così agli nori della cronache nell'ambito della letteratura weird con la vittoria del premio Hypnos conseguita nel 2018 premio dove addirittura ero in corsa anche io che ottenne una menzione con un racconto lungo che poi ho pubblicato sotto il titolo della zona con la Delos. Cristiano De Micheli vinse quel concorso e la vittoria gli consentì di aprirsi una via nella blasonata casa editrice di Andrea Vaccaro di Milano, appunto la Hypnos, probabilmente la casa editrice di elezione per gli appassionati del weird, sia quello storico dei vari William Hope Hawkson e fino agli autori contemporanei che hanno in Laird Barron e magari anche Nathan Balingrude le espressioni più recenti. Ma Cristiano De Micheli vinse questo concorso tutt'altro che da sconosciuto, addirittura ha debutato, un debutto piuttosto fulgorante nel 2011 con la casa editrice del Rizzoli, con un romanzo, romanzo credo sia pur essendo comunque interessato da un contesto fantastico, indirizzato ai fanciulli, titolo Melasia, giunto finalista ai premi 100 e Minerva. Quindi una lunga pausa, poi l'arrivo alla Hypnos con la pubblicazione di questa raccolta che si intitola Cronache dalla Vallemuria. Poi parentesi con un saggio dedicato al mostro di Firenze, una vera e propria passione che in un certo qual modo corrode o comunque rapisce l'animo di De Micheli fin da quando era un adolescente e fine la prosecuzione, il sequel di Cronache dalla Vallemuria con l'anno delle volpi. Che tipo di autore è Cristiano De Micheli? Cristiano De Micheli è un autore essenzialmente aulico, elegante, che ha una bravura particolarmente spiccata nel intessere un lessico e anche dei periodi assai elaborati, pur se mai pesanti, con un intreccio di termini che arrivano sia dal linguaggio comune della Liguria, in quanto le due volumi che vi ho mostrato, entrambi pubblicati dall'edizione Hypnos, sono ambientate in una fantasmagorica, in una immaginifica valle ligure che non esiste ma che De Micheli traccia come un po' faceva Lovecraft per le sue ambientazioni fantastiche, penso ad Arkham o Danwich, che è impopolata di personaggi folcloristici, una sorta di gotico rurale, quasi potremmo definirlo, dove chiaramente sopravvivono espressioni anche locali che si intrecciano ad richiami al latinismo o comunque anche comunque ha una terminologia assai ricercata. Ed è anche molto interessante verificare come in entrambi i testi De Micheli lavori su un duplice piano, che è quello sia satirico della parodia del Weird, ma anche con una capacità assai lodevole nel intessere momenti di puro horror, soprattutto nella raccolta Cronache dalla Val Lemuria. Io direi che De Micheli nel panorama italiano sia probabilmente uno dei migliori in assoluto rappresentanti insieme a quest'altro autore, anche lui concittadino di De Micheli, che è Ivo Torello, il quale anche lui è, come vedete, questo abbiamo I Prendatori dell'abisso e qua abbiamo Le Creature della Follia, sempre pubblicati per Hypnos, medesima collana delle opere pubblicate da De Micheli. Si tratta sicuramente di due assoluti top. Andiamo a vedere questi due libri, le differenze tra Cronache dalla Val Lemuria e L'Anno delle Volpi. Indubbiamente Cronache dalla Val Lemuria ha un volume sicuramente più agile, più snello e probabilmente anche più commerciale, se così lo possiamo dire, pur essendo scritta in modo molto aulico, con un intreccio di storie che si snodano in periodi ed epoche diverse e che hanno in comune l'ambientazione della Val Lemuria, è un'opera, diciamo, un pochino più convenzionale, eppure avendo dei racconti molto diversi tra loro, sia per registro che per atmosfere weird. Però qui in weird sicuramente c'è anche l'horror, ci sono degli interessanti racconti e troviamo dei rimandi ad Arthur Maken, soprattutto, Arthur vive anche nelle opere di De Micheli, con i Cecini, sono delle sorte di gnomi di natura diabolica, però legata a una corrente del paganesimo, che ritroveremo anche nell'Anno delle Volpi. Ma se Cronache della Val Lemuria è un'antologia intrecciata, sicuramente ben più agevole, del successivo volume, che appunto è l'Anno delle Volpi, l'Anno delle Volpi ha una struttura assai curiosa, vedete, l'Anno delle Volpi, un armanacco da Val Lemuria. Questo è un volume, a mio avviso, che potremmo definirlo tranquillamente sperimentale, in quanto De Micheli cerca di operare una commistione non soltanto di contenuti, tra commedia, parodia e leggende metropolitane della Val Lemuria, più che metropolitane diciamo leggende folcloristiche della panorama agreste, che circonda con le sue nebbie, i suoi boschi, questa fantasmagorica a valle. All'interno di questo passaggio continuo tra parodia, comicità e horror, qui c'è un tentativo di veramente dar vita a un almanacco dinamico con riferimenti agli usi, ai costumi, ai vari periodi dell'anno, tant'è che la storia è divisa in 12 capitoli, ognuno delle quali è dedicato a un singolo mese, e all'interno sono inserite anche le tipologie tempi di cultura, le tipologie di prodotti, elementi geografici, elementi storici, e la storia è portata avanti attraverso un leitmotiv caratterizzato da una serie di personaggi che vanno ad costruire un vero e proprio romanzo di caratura corale, che si ritrovano nel bar di un albergo, un albergo moderno, e qui parlano del più ed del meno, dando vita a un volume assai curioso, che non ha una trama con un inizio e una fine e una serie di snodi centrali, che fungono da trama centrale, ma è una sorta di anno in cui il narratore segue la vita di un anno in questa Val Lemuria, con una serie di personaggi specifici, uno dei quali Esmeraldo racconta una serie di storie di volta in volta, curiose, molto spesso grottesche, con arti fantasma, con addirittura un edificio creato da un architetto, diciamo così, artistico, che vive di vita propria e se ne va in giro, un po' come in alcuni racconti di Clive Barker, a fare mattanza, oppure abbiamo anche, ovviamente, come già avevamo trovato nelle cronache della Val Lemuria, si parla di animali di valenza quasi criptozoologica, comunque fantastici, tipici della Val Lemuria, e poi ci sono altre storie sicuramente fantastiche, molto interessanti, come una donna che vive una duplice vita, una nella Val Lemuria, un'altra nei sogni, e quindi rimandi poi anche ad ghost stories, o ancora ad negromanti, e poi c'è l'aneddoto curioso del legato ai Ciccini, con una serie di parodie, addirittura con un parroco religioso che si erge a protettore del paese, nel quale si ambienta la storia, e che vi dico anche come si chiama, addirittura è citato anche nelle cronache della Val Lemuria, e addirittura appunto si erge a protettore con Dio che lo ignora le richieste di soccorso, il paese si chiama Tolengo, in quanto gli Ciccini sono creature pagane, quindi non interessa nulla a Dio intervenire, perché deve combattere con le legioni dell'inferno agli ordini di Lucifero. Un volume molto curioso, ma anche tuttavia caratterizzato da una costruzione che interrompe sistematicamente gli sviluppi narrativi, mi ha ricordato un po' in questo Moby Dick di Melville, perché ci sono tutta una serie di rimandi, addirittura la lavorazione delle castagne, alla modalità di come vengono curate le vigne, quindi una sorta di saggio dinamico che si trasforma in romanzo che a sua volta si trasforma in una sorta di antologia che viene portata avanti con dei racconti resi da soggetti che parlano del più e del meno al bar, un po' come se si fosse in uno spettacolo teatrale. Infatti credo che per buona parte di questo testo si presterebbe bene per una rappresentazione teatrale con frasi spesso e dialoghi ai limiti del grottesco, molto spesso comici e divertenti con dei soggetti che sono tutto sommato dei, come potremmo dire, degli scazzoni per utilizzare un termine gretto. Quindi però Cristiano Di Micheli indubbiamente dimostra delle qualità narrative eccezionali che lo elevano nell'ambito della narrativa fantastica, hanno un panorama che non è pulp, pure strizzando l'occhio al weird. A mio avviso l'anno delle volpi, a differenza di Croniche della Vallemuria, si discosta da quella narrativa soprannaturale che un lettore, un appassionato di fantastico, diciamo così, legato a riviste come Weird Tales potrebbe attendersi per andare più in direzione del realismo magico perché appunto è molto legato alla quotidianità di questi paesi, di questo paese che rimanda un po' alla tradizione probabilmente degli anni 70 e 80 con un popolo, una popolazione di provincia che vive e trova il suo fulcro nevralgico nella vita del bar dove ci si riunisce per parlare di più o meno davanti a un liquore, un amaro e quindi con vari elementi legati a soggetti forestieri che arrivano, al medico, addirittura la figura di un parroco e di un professore che incarnano poi modelli che abbiamo parlato a conoscere nell'ambito cinematografico con Peppone e Don Camillo, quindi un religioso convinto che però non disdegna il ricorso alle bestemme quando si arrabbia e l'altro che è un convinto, un convinto sostenitore della inesistenza di Dio, quindi è sostanzialmente un ateo. Tra l'altro in questo volume si parla anche di accenni alla morte, a ciò che attende l'uomo al di là del mistero che ovviamente governa la vita di tutti noi. Quindi Cristiano Nemicheri, autore sicuramente notevole da leggere, io suggerirei tra i due per partire sicuramente Cronache dalla Val Lemuria che è molto più snello come vedete e soprattutto è molto più canonico. L'Ara delle Volpi è un romanzo che potrebbe risultare ostico per la sua mancanza di collegamento, diciamo così, tra un inizio e una fine. Non segue gli stilemi classici del romanzo ma è un'opera sperimentale, un'opera che cerca di dinamicizzare, se si può dire, un sorta di saggio almanacco fantastico che incarna un po' anche il racconto che aveva portato De Micheli a vincere il premio Hypnos e che si intitolava Materiali per una guida della Val Lemuria. Qua sostanzialmente segue un po' il medesimo stilema andando a creare un almanacco fantastico, un almanacco che narra episodi, leggende, eventi e scandisce i tempi sia meteorologici sia stagionali sia legati alle coltivazioni di una valle, di un paese tolengo che non esiste sulle cartine ma che è frutto della totale invenzione di De Micheli. Quindi una lettura sicuramente da affrontare per chi ha apprezzato questo romanzo, da scoprire per chi ama i romanzi sperimentali, le contaminazioni tra comicità ed horror, anche se qui l'horror non è mai un horror che incute tensione ma che si snoda sulla base di leggende. Non ci sono eventi tranne uno specchio maledetto che riflette l'anima perversa di chi si rispecchia e anche salvo alcuni episodi tipici del sottogenere, del doppelganger. A parte questi contenuti è un finto romanzo fantastico. Bene, Matteo Mancini vi saluta e vi invita alle prossime recensioni. Ovviamente nel prossimo anno presenteremo anche Ivo Torello, scrittore dal carattere quanto nevrile ma a mio modo di vedere top assoluto insieme a De Micheli, Musolino e Mi Dicono Besana che non ho mai letto, top assoluto tra i contemporanei scrittori di Fantastico Italiano. Ciao a tutti!